Alla giornata del cliente Midas abbiamo presentato lo studio di una passerella ciclopedonale, in particolare con riferimento allo studio del comfort e nei confronti delle vibrazioni. Lo studio del comfort della passerella è mirato allo studio degli stati limite di esercizio, per i quali è necessario fare una verifica col carico dinamico, adottando appunto la time history di questo carico dinamico della forzante del passo del pedone, per verificare appunto i livelli di comfort della passerella ciclopedonale. Per affrontare la progettazione del comfort della passerella siamo stati affiancati da Arpa CEAS e in un paio di giorni di affiancamento, che sono stati più che sufficienti, in quanto il personale veramente preparato sia professionalmente che tecnicamente, ci ha consentito di affrontare tutte le problematiche inerenti a questa problematica, questo progetto, che abbiamo risolto appunto in brevissimo tempo. L'utilizzo di Midas Gen, che ci ha permesso di studiare il comfort della passerella ciclopedonale attraverso la time history, è stata la soluzione ottimale, in quanto è il programma che ci ha consentito di fare tutte le verifiche e gli stati limite necessarie per avere una risposta adeguata e certa del comportamento della struttura. È sicuramente un programma che va utilizzato per questo tipo di progetti e che sarà sicuramente implementato per altri studi.